La Sardegna ha la sua agenzia delle entrate. L'ASE è stata istituita con una legge votata ieri in Consiglio regionale. L'agenzia è stata voluta dalla Giunta Pigliaro e realizzata con la collaborazione di tutte le forze di maggioranza. Avrà un direttore generale, un revisore di conti, 20 dipendenti, un costo stimato a regime di 2,5 milioni di euro l'anno. Già da ora l'ASE potrà incassare i tributi diretti della regione che non passeranno più nelle casse dello Stato per poi essere restituiti al bilancio locale, ma già da luglio del prossimo anno dopo l'approvazione di un decreto ministeriale già in bozza, entreranno direttamente all'agenzia i nove decimi dell'IVA, i sette decimi dell'IRPEF e una serie di altre tasse pagate dai contribuenti sardi come i condoni o i proventi sui giochi. Col duplice obiettivo, si legge nella nota della regione, di garantire certezza di entrate e di tempi. L'agenzia sarda delle entrate è un pezzo importante per il controllo fiscale complessivo e essenziale per la nostra regione e per gli interessi del popolo sardo, ha detto l'assessore della programmazione e del bilancio Raffaele Paci. Commenti positivi sono arrivati da tutte le forze della maggioranza, ma a celebrare una vera vittoria il partito dei sardi, nelle cui forze sono confluiti i promotori del movimento popolare chiamato Fiocco Verde, che proponeva già una bozza della legge. Francesco Seda, ora segretario del PDS, è esultato per il varo della legge che, ha detto, è mancata per 70 anni alla Sardegna, come ha dimostrato l'avvertenza entrate aperta nel 2006. Spetta ora noi il controllo dei flussi e il riversamento diretto dei nostri soldi nel nostro salvandanaio, ha scritto Seda. Critiche accese sono invece piovute dall'opposizione. Marco Tedde, capogruppo di Forza Italia, ha evidenziato come l'ASE sarà priva di poteri di accertamento e riscossione e dunque sarà un inutile ufficio di studi privo di qualsiasi funzione operativa che costerà 2,5 milioni l'anno ai sardi.